La storia di Vincenzo Ammaturo è quella di tanti che vivono una vita anonima e invisibile e che come il nostro protagonista a volte si imbattono nell'imprevedibilità del caso che rischia di stravolgere le loro esistenze. Così il regista Vincenzo Peluso ha spiegato la trama del cortometraggio da lui diretto La Consegna presentato al Teatro Posillipo di Napoli. Il corto della durata di circa 15 minuti vuole essere il primo di un progetto più ampio teso a narrare le difficoltà nell'essere onesti. Autrice della sceneggiatura, la scrittrice Anna Vera Viva. Volevamo raccontare Napoli, Napoli in una delle sue tante sfaccettature, ma forse ancora di più volevamo raccontare quell'ossessione che si crea nella vita di chi fallisce, fallisce su tutto o meno che su un unico aspetto e quell'aspetto per lui diventa un'ossessione, l'unico ambito nel quale riesce a sentirsi qualcuno e questo comporta chiaramente un atteggiamento quasi psicotico verso questo lato della sua vita. Attore protagonista Patrizio Rispo che spiega la sua attitudine nell'impersonare personaggi buoni mai aggressivi come Vincenzo Ammaturo. Purtroppo ancora una volta racconto un povero uomo, io non ce la faccio più, vorrei fare un criminale, un cattivo, un ricco, un aristocratico, ma invece io fisicamente lascio questo segno di onestà, di candore, di piccolezza umana. Cioè questo è un uomo che trova, come purtroppo spesso accade nel lavoro, l'unica ragione di vita, viene da un contesto familiare deprimente per cui vive il lavoro in maniera eccessivamente felice e solare, cioè butta tutta la sua vita, la sua essenza nel lavoro, ma con una tale ossessione e una tale onestà che questo lo porta a vivere un'avventura che si risolverà in tragedia.